Musica Ciao, allora benvenute a questo nuovo catalogo Intanto, sì, siamo a giugno, sì, ho tre maglie, ma sta piovendo fuori e fa davvero freddissimo Comunque questo è un video veloce per farvi vedere le novità del libro Shea dell'album numero 7 Che vario fino al 7 giugno del 2016, sperando che il tempo sia migliore Ci sono tantissime novità e una promozione per la festa dell'ambiente Quindi davvero partecipate tanti Ultima cosa che vi dico, molto molto importante Nel mio video vi faccio vedere le novità o le promozioni, tutto il resto del catalogo Lo potete tranquillamente scaricare qui sotto in PDF che vi lascio il link Così lo sfogliate con calma, se no il video diventa davvero troppo lungo E direi di iniziare a sfogliarlo subito Allora eccoci, iniziamo subito che vedete tante novità Primo il gel doccia che comunque vi mostro meglio Eccola qua, in questa pagina, che questo è il sommario Allora, bagno doccia e altri prodotti per il corpo della linea Plasir Nature Ed abbiamo tutte le profumazioni nuove Parto da questa, che è lampone e menta piperita Che comprende il bagno doccia, questo da 400 ml a 3,95 Oppure il bagno doccia più piccolo, da 200 ml a 2,50 euro Poi abbiamo, eccolo qui, il latte corpo da 390 ml con il dosatore Quindi è comodissimo, 6,95 Bastiglia ettervescente Il latte corpo più piccolo, da 200 ml a 4,95 E il gel doccia sfogliante a 4,95 I prezzi sono sempre uguali, prodotti anche, cambiano le profumazioni E ora ve le mostro Poi abbiamo, l'altra profumazione, mango e coriandolo Oppure mandarino, limone e cedro In questa profumazione, la confezione sono diverse Quindi abbiamo le rettualette, intanto, da 100 ml a 9,95 Oppure quella piccola, da 20 ml a 4,95 Se no, l'esfoliante corpo, eccolo qui, imbaratto Da 150 ml a 9,95 O il balsamo corpo, fantastico, fondente, nutriente 9,95 per 150 ml Stessa cosa per la profumazione Fiore d'arancio, lavanda e pezzi grandi Quindi sempre le toilette, piccole e grandi Le sfoglianti e il balsamo corpo Torniamo ai formati classici Quindi bagno doccia, grande, piccolo Oppure la crema Questa, lavanda e mora Che comprende anche l'olio doccia Che è fantastico Oppure, qui, vaniglia bourbon Sempre con l'olio doccia Con il profumo, invece Abbiamo anche la vaniglia bourbon Sempre con il profumo E il piccolo, grande Oppure anche l'esfoliante O il balsamo corpo Quindi sia il latte corpo che il balsamo corpo Altra profumazione Noce di cocco Sempre con tutti i prodotti E poi andiamo Le profumazioni sono finite In questo caso Quindi di novità Ne avete davvero tante E poi abbiamo una Promazione solo per questo catalogo Perché è la giornata Per aiutare il pianeta In questo caso La festa dell'ambiente Che è il 5 giugno 2016 Acquistando lo shampoo lucentezza Nella confezione Inizio limitata Acquistandolo a 3,95 Ed si ha Come sempre Il libro Ogni anno Ogni anno Atto la promozione Che ogni shampoo acquistato È un albero piantato E se andate a vedere Nella festa dell'ambiente Quando vengono fatte Queste promozioni È vero Che pianta davvero gli alberi Quindi davvero Wow È il momento di Questa è una confezione Edizione limitata Solo per questo catalogo Quindi solo per questa volta Che è anche bella Da tenere dopo Perché comunque Si è contribuito Ad aiutare l'ambiente Concludiamo ora Con due promozioni Sapete che vi faccio vedere Solamente le promozioni O le novità E il resto del catalogo È sempre uguale Quindi o lo sfogliate In cartacce Oppure online Ma per non allungare Troppo il video Promozione Rich Creme Fluido anti rug Benefica giorno In promozione A 14,95 Altra promozione Dell'altra linea L'antiage global Crema fondamentale giorno Con protezione 20 A 19,95 Eccoci qui Avete visto che era una cosa Davvero molto veloce Con tantissime promozioni E novità Qui sotto Come sempre Ci sono i link Per contattarmi Per le informazioni Per gli ordini C'è anche un po' Un attimo Sta arrivando alla luce E si vede Ed c'è anche il link Per scaricare Il catalogo Pdf Come vi ho già detto Ed a me non resta Che augurarvi Buoni acquisti Naturalmente perfumati Con il magico naturale mondo Di Brochet Che auguro di Che auguro di